ed eccoci ritornati in diretta dunque come promesso all'inizio diamo il benvenuto al nostro primo ospite di giornata l'arcivesco padre franco moscone buongiorno padre franco buongiorno buona festa di san matteo grazie inizio insomma del triduo di padre pio ecco in effetti siamo proprio alla vigilia di questa grande festa come abbiamo detto all'inizio della nostra puntata padre franco la giornata di oggi tradizionalmente legata al tema della carità perché poi alle 11 e 30 ci sarà la celebrazione eucaristica per il personale i degenti di casa sollievo della sofferenza ebbene noi questa mattina vogliamo concentrarci proprio su questo aspetto della spiritualità di padre pio di san pio da pietrelcina che è stato un gigante della della carità ebbene allora padre franco proviamo a chiederci anche a fare una riflessione sulla sua esperienza a partire dall'esperienza di padre pio che insomma avendo dedicato la sua vita al prossimo ci è di grande aiuto in questo mondo così individualista travagliato che insomma sembra aver messo un po da parte il tema della carità la prima cosa che vorrei dire e guardando proprio a padre pio e in genere a tutti i santi e questa affermazione ossia se non c'è carità non c'è santità la carità è la condizione perché si possa camminare nella via della santità e la si realizzi e la carità è segno di presenza di santità anche se non è riconosciuta dallo stesso personaggio che la vive perché la carità è il nome di dio la carità è dio che vive nelle persone attraverso le persone ora in san pio da pietracina questo si è vissuto e si è visto in modo altissimo sia nelle azioni proprie di carità che hanno nella costruzione nell'aver pensato e realizzato e messo in atto casa sollievo della sofferenza l'aspetto più evidente e che perdura nel tempo e che continua a dire la verità di quella santità che non si è spenta ma si è aperta al paradiso 56 anni fa con il transito di padre pio da questa terra al cielo quindi senza la carità e senza opere esplicite visibili riconosciute di carità non si può parlare di santità e non si può riconoscere la santità cristiana che è essenzialmente amore amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato date la vostra vita mettetevi a servizio delle persone dell'umanità e del mondo intero nel nome del signore ecco che cosa ha fatto padre pio fondamentalmente ha fatto questo gli aspetti poi che ricordiamo di tipo tra virgolette miracolistico non sono altro che gesti di carità in vari modi ecco soprattutto nella vicinanza nella carità che si fa vicinanza che si fa con passione che si fa comprensione prende con lui ecco la sofferenza dell'altro e cerca di portarla a dio e portandola a dio può succedere di tutto quello che chiamiamo qui miracolo magari incomprensibile ma può succedere l'altro miracolo normalmente quello più normale ossia di poter sopportare sollevare vivere trasformare la sofferenza e il dolore in croce di salvezza nel riconoscere che quella sofferenza non mi uccide ma mi identifica con cristo salvatore crocifisso e risorto ecco il miracolo che padre pio compie i miracoli che padre pio compie hanno queste caratteristiche sollevano e confortano e sono sempre segni di carità di carità viva e di carità concreta certo quindi la carità è virtù cardine proprio dell'amore di cristo e sono le fondamenta e allo stesso tempo l'obiettivo ossia la carità è principio percorso fine e compimento della vita cristiana perché perché dio si parte dalla carità si parte dal suo amore ricevuto ricevuto quindi dal passivo dell'amore dell'essere amati e si cammina attraverso un riconoscimento riflessivo di questo amarsi e si arriva ad amare e a donare la vita e quindi a ritrovarsi in dio che è colui che dà la vita in pienezza quindi la carità è il principio il percorso il fine a cui mirare e il compimento in cui ci sarà ci sarà e questo ecco diventa per noi santità certa e sicura e quando guardiamo i santi e guardiamo un santo come il nostro padre pio non possiamo che riconoscere questo aspetto sia una carità fatta carne una carità impersonata e in lui impersonata poi anche con dei segni visibili sul suo stesso corpo ma anche se questi non ci sono come in quasi tutti i santi comunque nei santi della porta accanto nei santi che dovremmo essere tutti noi insomma che la nostra vita e l'intera nostra vita sia strumento di carità e espressione di carità questo è cristianesimo e casa sollievo per padre pio uno dei frutti più grandi della carità quello è stata l'opera che lui ha sempre desiderato pensato sognato espresso e sia anche in qualche modo compromesso dicendo che questa è la mia opera in terra e resta anche dopo che lui in terra col suo fisico non c'è più però resta la sua opera e credo sia il richiamo più grande il richiamo più grande non solo il più visibile sul monte di san giovanni rotondo ma il richiamo più grande della sua volontà caritativa tutto il resto poi esprime carità in altre forme assolutamente da alla carità quello slancio verso dio e verso verso lo spirito verso la ricerca di dio rende visibile e rende leggibile ecco quello che è l'opera fisica e concreta di carità e parlando di casa sollievo padre franco è appena finito da pochi giorni il 35esimo convegno nazionale dei gruppi di preghiera con un focus particolare dedicato alla speranza che ci lega poi all'anno giubilare pellegrini di speranza e quale impegno è emerso dai gruppi e come il mondo di padre più si sta preparando al nuovo anno santo io credo che ogni gruppo stia facendo un suo percorso e non può essere diversamente insieme come gruppi ormai sono più quasi 3000 a livello a livello mondiale insieme cerchiamo di rispondere a quello che è e essere dentro a quanto la chiesa universale in questo momento propone a tutti e quindi propone anche a noi che è un risollevare ecco nei nostri cuori nelle nostre mente nelle nostre vite di tutti i giorni la virtù della speranza l'anno giubilare che si aprirà tra poco a questa finalità ecco delle tre virtù teologali ossia le virtù che parlano di dio ecco quando si vuol parlare di dio non è che bisogna andare a scrivere libri di teologia fondamentalmente se voglio parlare di dio devo dire dio attraverso tre virtù tre forze che stanno nella nella mia vita o nella nostra vita la fede la speranza e la carità ora la la speranza è quella che quest'anno giubilare vuol rimettere in prima linea e vuol far rivivere ecco la speranza è quella che ci fa camminare e la fede che che guarda al futuro e non ha paura e che quindi trascinandoci nella fede ci porta ad aprire nuove strade di carità all'altezza dei tempi quindi anche i gruppi di preghiera sono chiamati essenzialmente a farsi carico di questo impegno della chiesa universale di rinnovare di rinverdire di rendere nel futuro la virtù del futuro che è la virtù della carità perché della speranza scusate perché dio sta nel futuro dio da davanti a noi dio è il nostro futuro oltre che ovviamente il nostro sostegno e il nostro presente ma è lì a cui dobbiamo arrivare quando penso ai gruppi di preghiera penso alle apie operaie loro sono un po' apie operaie della della preghiera della in questo caso della speranza la preghiera ha tante forme si può pregare in tanti modi normalmente l'aspetto più comune è la preghiera di domanda e la preghiera che si fa supplica no si fa richiesta fondamentalmente il padre nostro è tutta una domanda se si escludono le prime due parole che sono un'invocazione padre nostro e poi che sei nei cieli sarebbe da chiedersi dove sono sti cieli però lasciamo le prime due che sono un'invocazione quindi sono l'afflatto sono lo sguardo verso l'alto e quindi sono un grande atto di fede tenero di amore eccetera sono padre nostro è tutta una richiesta sono domande ecco però la preghiera ha tante forme diventa supplica e intercessione per altri o per il mondo intero diventa lode diventa espressione di gioia deve diventare anche desiderio di speranza essere come la lente che ti permette di vedere in modo corretto quello che sta avvenendo ma quello che avviene è oltre me è davanti a me è ciò che mi aspetta e quindi deve essere inserito in questa speranza di dio in questo dio che dice futuro possibile sostenibile reale e di salvezza e quindi una preghiera quest'anno deve diventare preghiera di speranza e quindi i gruppi di preghiera che hanno nella preghiera la loro missione principale per volontà di dio e la preghiera quando è per altri e non solo per me è altra forma distillata di carità ecco a maggior ragione quando è richiesta di speranza padre franco chiediamo altri cinque minuti del tuo tempo perché dobbiamo andare in pubblicità abbiamo due domande sulla speranza legate anche al nostro territorio sappiamo che hai un evento istituzionale appunto quindi non vogliamo rubarti troppo tempo però andiamo prima in pubblicità e poi ritorniamo con il nostro arcivesco per altri due aspetti molto particolari legati al tema della speranza restate con noi ritorniamo in diretta con il nostro arcivesco padre franco moscone con il quale stiamo riflettendo sul tema della carità ma abbiamo visto che ora anche la speranza proiettandoci verso il giubileo è una virtù presente nella spiritualità di padre pio e anche nei gruppi di preghiera il tema della speranza padre franco è un tema che deve anche in qualche maniera coinvolgere e interessare il nostro territorio il territorio garganico lo facciamo spesso parlando anche non solo dei tanti punti di forza ma purtroppo anche dei punti di debolezza che contraddistinguono la nostra terra che troppe volte è stata costretta a piegarsi alle logiche criminali di pochi che in qualche maniera mettono in ombra il lavoro laborioso di tanti è in un tuo recente discorso padre franco ha invitato gli abitanti di questa terra a tenere il vangelo in una mano e la costituzione in un'altra a camminare senza voltarsi indietro allora quale cammino ci aspetta potremmo dire dunque questa affermazione l'ho fatta durante al termine della processione di santa maria di siponto a manfredonia come discorso come appello alla città e in qualche modo al suo territorio e dal gargano ecco io credo che abbiamo in questi due testi una forza enorme ovviamente il vangelo è la principale è la forza di noi credenti ma volendo anche di tante persone che a gesù si sono in qualche modo avvicinate o interfacciate io penso per esempio a gandhi che conosceva benissimo il testo del vangelo soprattutto nuovo testamento anche altre parti della bibbia insomma e ne vedeva il significato quindi il vangelo è la nostra forza e la nostra arma intellettuale anche oltre che di cuore perché vivere secondo il vangelo significa assumere un pensiero secondo il vangelo e il pensiero è ciò che poi introduce e trova gli strumenti per camminare per costruire la società oltre che la chiesa ma contemporaneamente siamo parte di una società civile e diventiamo anche sempre più minoranza come credenti ma questo non ci deve non ci deve stupire né meravigliare né impaurire perché gesù stesso parlando dei suoi discepoli e del suo regno parla di un seme che deve crescere e non parla di una foresta intera quindi è nel piccolo che emerge il vangelo però abbiamo come società civile quest'altra seconda dimensione che è la nostra costituzione soprattutto nella prima parte nei valori fondamentali una costituzione che è stata scritta e voluta da da un complesso di di iniziative di rapporti di pensieri più diversi ma con una grande presenza di intellettuali che conoscevano bene il vangelo che avevano scelto di vivere il vangelo nella loro vita quindi la costituzione non è anti vangelo anzi a mio giudizio è un vangelo trasformato in civiltà in in testo giuridico civile senza che si citi direttamente il vangelo o senza che sembra però c'è dentro completamente penso soprattutto ai primi undici articoli insomma della nostra costituzione ma poi ovviamente va rispettata tutta se il nostro pensare e quindi il conformarsi poi dell'agire segue questi due testi da credenti e da espressione da cittadini e allora c'è speranza ossia c'è veramente possibilità di realizzare quei valori di trasfigurare il nostro territorio meglio di quanto non lo sia distruggendo bloccando ecco tutto ciò che invece va per altre vie e vorrebbe invece renderlo succube di alcuni poteri e di una criminalità che è ancora purtroppo presente troppo presente infatti bene padre franco allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi augurandoti una buona festa di san pio ci rivedremo ovviamente anche nei prossimi giorni nei vari appuntamenti anche liturgici ti lasciamo a quest'altro importante convegno dedicato al tema appunto della carità ci saranno anche degli ospiti importanti a livello nazionale sulla figura del medico sulla figura di sanguinetti abbiamo detto braccio destro di padre pio lo abbiamo ricordato all'inizio lo abbiamo fatto anche ieri con il libro del direttore stefano campanella dunque la giornata della carità prosegue anche nel segno di figure che partendo proprio dall'esperienza di padre pio insomma ed eccolo qui lo vediamo in qualche modo sono diventate esse stesse un simbolo e fenomeno di carità grazie padre franco per essere stato con noi grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori e alla prossima buona festa di padre pio grazie a tutti